Nel test degli pneumatici estivi di quest'anno, il Touring Club Svizzero ha esaminato in totale 16 modelli, della dimensione 225-40-R18-92-Y. Questa dimensione è adatta ad auto della classe media, come per esempio Audi A3, Volkswagen Golf o Peugeot 308. La dimensione 225-40-R18 assume sempre più importanza e in futuro sostituirà la dimensione 225-45-R17. Per facilitare la scelta degli pneumatici è necessario conoscere in anticipo i requisiti specifici dell'utente. I test e la valutazione sono stati effettuati secondo 13 criteri diversi, che corrispondono a 6 punteggi principali. Questi pneumatici hanno la designazione Ultra High Performance. UHP è l'acronimo per pneumatici che soddisfano requisiti speciali nella gamma ad alta velocità. Tutti gli pneumatici testati hanno una performance da corretta a molto buona, ad una velocità inferiore uguale a 120 km orari. Solo a partire da una velocità di 180-200 km orari emergono differenze significative. Tutti, tranne il Toyo Proxy Sport, ottengono buoni risultati nella frenata sull'asciutto. Durante la prova di frenata da 100 km orari, la vettura che monta il Michelin Pilot Sport 4 si ferma dopo 35 metri, mentre l'auto con pneumatici Toyo ha ancora una velocità di impatto di 30 km orari. Nelle prove sul bagnato, 8 dei 16 pneumatici esaminati ottengono un buon risultato. Il Continental Premium Contact 6 e il Pirelli P0 ottengono costantemente risultati superiori alla media, nelle diverse categorie del test. Il Continental e il Michelin hanno un'ottima frenata su fondo stradale bagnato. Contrariamente allo spazio di frenata del Continental, che si ferma dopo 33 metri, il Rotalla Setulla S-Pace RU01 si arresta solo dopo quasi 40 metri, classificandosi così in ultima posizione. Lo pneumatico più rumoroso, il Continental Premium Contact 6, emette circa 4 dB in più del Pirelli P0, che è il più silenzioso. Le differenze nel consumo di carburante sono minime. Il prodotto peggiore ha bisogno di soli 0,3 litri per 100 km in più rispetto al migliore. Il Goodyear Eagle F1 Asim 5 vince il test dell'usura con 39.600 km, nel quale il Pirelli P0 si piazza in ultima posizione con i suoi 25.500 km. Ecco il quadro finale per gli pneumatici della classe media di dimensione 225-40 R18-92-Y. Pneumatici molto consigliati. Continental Premium Contact 6, Michelin Pilot Sport 4, Goodyear Eagle F1 Asim 5, Maxxis Victra Sport 5. Pneumatici consigliati. Nexen N-Fera Sport, Sava Intensa UHP 2, Fredestein Ultra G40, Falcon Azenis FK510, Bridgestone Potenza S001, Kumo Extra PS71, Nokia Power Proof. Pirelli P0, Pirelli P0, Toyo Proxy Sport, Hancock Ventus S1 Evo 3, Cooper Xeon CS Sport. Pneumatico consigliato con riserva. Rotalla Setulla S-Pace RU01 Una scelta accorta dello pneumatico deve tener conto dell'impiego previsto e del proprio profilo di guida. A seconda delle esigenze personali si potrebbe quindi anche optare per un marchio meno conosciuto. Troverete i risultati dettagliati e consigli in tema su pneumatici.tcs.ch. Il Touring Club Svizzero vi augura buon viaggio! Grazie a tutti!